Io mi ricordo come fosse stata ieri la guerra, avevo 9 anni, quella volta eravamo noi quattro fratelli con mio babbo, mia mamma e mia nonna. Nel mese di maggio ha cominciato il corso, il rastellamento dei civili. C'era un amico che abitava qui al mulino di sotto, con mio fratello più grande, aveva fatto un buco nel pagliaio e poi si nascondevano lì dentro. A mezzogiorno la sua moglie ha portato su do mangiare al suo marito, sono usciti di fuori, quando è venuto dietro la casa, ha visto i tedeschi, è ritornato indietro, gli ha detto i tedeschi, i tedeschi, suo marito gliel'ha fatta entrare nel buco, mio fratello non ce l'ha fatta. Uno col fucile e uno con la pistola gli avranno dato 30 colpi, non l'ho preso per fortuna. Dopo è venuto giù, piano piano c'era il tabacco, un campo di tabacco e mia povera mamma guardava, finalmente si è messo in cima a questa coltura di tabacco, l'ho visto e ha detto vieni aspetta lì che ti faccio venire su più tardi. Così ha fatto, è venuto su, l'hanno chiuso in una botte di vino, è stato tre giorni chiuso. Il 2 settembre noi siamo entrati nel rifugio e lì assiste fino il 18 di settembre. La mattina sono arrivati gli inglesi, allora il babbo di Sabro, Giovanetti, e mio babbo sono andato a farci festa, agli inglesi. Da Montescudo, col mitragliatore gli sparavano, loro gli inglesi hanno detto via 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 e sono venuti dentro il rifugio. Noi avevamo la farina, il vino, però quando siamo partiti abbiamo portato su poche cose. Dopo la mia nonna aveva i maiali, dopo sono arrivati gli inglesi, se sono venuti a prendersi l'hanno ucciso sotto a casa, laggiù. Avevano la roba da buttare via loro. A noi i tedeschi non ci hanno portato via niente, fuori quell'episodio di mio fratello che gli hanno sparato, a noi ci hanno aiutato a nascondere il grano, tutto, tutto. Sono arrivati gli inglesi e ci hanno portato via via tutto. Queste piane, chi vede questo terreno, adesso ci sono le fabbriche, qui era un camion attaccato all'altro, migliaia di camion. Mio babbo, c'era un campo di erba medica sotto il rifugio lì, passando lì mio babbo ha trovato una coppia di pane tedesco, con una cintura, legata a una cintura. Io, povera mamma, ce ne dava una pettina così. L'acqua, bevamo l'acqua del conca. Nel bottiglione di sopra c'erano i cavalli, i muli, rimanevano i vermi dentro la bottiglia. E allora la sera sono arrivati, facevamo la veglia nella stalla, sono arrivati a bussare alla porta. Signorina, volevano, c'erano otto, nove donne. Signorina, signorina. Allora il babbo di mia cognata è andato al portone, l'ha aperto un pochettino, dice venite domattina. Allora gli ha messo uno scarpone tra il battente da una porta e l'altra. Non ha potuto più chiudere. Mio babbo ha detto, aspetta che adesso li sposto io. È andato di sopra dal panorotto della scala, ha preso il fucile, gli ha dato due scarpettate nel portone, hanno lasciato la pila, i guanti, non so se sono più visti. Eh, sono momenti un po' difficili. Io penso che è una cosa, uno che non l'ha provata, uno che l'ha provata non può capire che è quello che è, che è successo. Allora 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 Allora